Ancora buona giornata da parte di Marco Revello e di Manuel Botto che oggi cura la parte tecnica in regia in questo 6 di aprile, siamo a mercoledì quindi metà della prima settimana del quarto mese del 2022 e siamo appunto in una giornata in cui la chiesa ricorda e festeggia San Pietro da Verona sacerdote martire che nacque nel 1200 e poi il beato Michele Rua, beata Pierina Morosini, San Guglielmo di Eschil Santa Galla di Roma, beata Caterina Morigi di Pallanza, San Prudenzio di Troie e poi ancora beato Notchero il Balbuziente, San Teutichio, San Filarete di Calabria, San Tireneo di Sirmio, San Paolo Labautin sacerdote martire, San Vinebaldo, beato Zefirino Agostini e San Metodio Vescovo. Auguri a tutti coloro che oggi festeggiano quindi il loro santo patrono. Oggi non ci sono nomi particolarmente insomma particolarmente comuni a parte Pietro che però insomma San Pietro evidentemente si festeggia di più quello del insomma San Pietro Apostolo il 29 di giugno ma comunque qualcuno che festeggerà oggi questi santi patroni ci sarà e quindi li salutiamo facciamo gli auguri anche a coloro che oggi ricordano un lieto evento, un anniversario o che compiono gli anni quindi festeggiano il loro compleanno proprio oggi. 6 di aprile e ieri avevamo preannunciato una giornata particolarmente nuvolosa e anche piovosa diciamoci la verità era un auspicio forse più che una previsione c'era un augurio perché comunque sappiamo che la carenza di acqua piovana anche sul nostro territorio è piuttosto importante piuttosto imponente soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura più che gli invasi delle acque poi degli acquedotti ma non è così non sarà proprio una giornata piovosa perché perché la perturbazione che era prevista impattasse sulla Liguria in realtà sta scorrendo molto più in basso alle latitudini più distanti dalla nostra regione oggi colpirà il centro Italia e quindi sul centro Italia dalla Sardegna però passando poi anche per il Lazio, l'Abruzzo eccetera, l'Umbria avremo della pioggia pioggia anche abbastanza importante mentre invece sul nostro territorio arriverà una velatura del cielo questa mattina che la stiamo già un po' vedendo e poi nel corso del pomeriggio delle nuvole basse che copriranno il sole almeno sulla costa mentre invece negli entroterra la giornata sarà un pochino più diciamo così soleggiata ma la cosa che ci colpisce di più ancora questa mattina è l'aumento della temperatura in quota mentre negli ultimi giorni avevamo visto temperature molto rigide al di sopra dei 1500 metri ricordiamo sabato avevamo meno 7 gradi ma anche negli ultimi due tre giorni avevamo temperature decisamente negative per la prima giornata invece di questa fase troviamo temperature che invece sono al di sopra dello zero ma neanche di poco perché in questo momento abbiamo tre gradi sopra lo zero ai 1785 metri del Monte Bue, 2 gradi punto 6 è stata la minima della notte quindi temperature che sono aumentate se non sbaglio di 5-6 gradi rispetto a quelle della notte precedente così anche ai 1255 metri di Rocca Daveto abbiamo avuto una minima un po' più bassa 0.8 adesso abbiamo un grado e 6 quindi c'è un'inversione termica in corso cioè fa più freddo al suolo che in quota e questo vuol dire che comunque le temperature stanno per aumentare quindi magari non sarà un aumento repentino un aumento che ci interesserà improvvisamente ma la tendenza è quella di un aumento di temperature come è normale che sia visto che siamo già in primavera e siamo già nel mese di aprile che è un mese che può riservarci anche delle giornate particolarmente tiepide se non addirittura calde abbiamo invece temperature ancora al di sotto dello zero nella bassa parte della Val Daveto iniziando da Rezzoaglio dove nella notte ci sono state temperature di meno 2.3 gradi di meno 4 gradi a Cabanne che più o meno la temperatura di ieri sul Monte Bue è di meno 3 gradi 8 a Parazzuolo di Rezzoglio quindi qui ancora le temperature sono molto basse ma sappiamo che in quota la situazione l'aria si scalda molto più lentamente che diciamo al suolo molto più lentamente che in quota e poi andiamo a Casali di Borzonasca dove la minima è stata di 4 gradi e 7, 4 gradi 8 a Belpiano e 4 gradi e 3 a San Sirofoce non pervenuta la temperatura della Val Graveglia in Val Fontana Buona a Favale di Malvaro 3 gradi e 3 a Pian dei Preti di Tribogna 5 gradi e 9 e nella bassa vallata a Pezzonasca 2 gradi punto 3 a Villa Oneto 6 gradi e mezzo e veniamo sulla riviera dove la temperatura più bassa è stata registrata nella stazione Golf di Rapallo con 3 gradi punto 7 mentre sulla passeggiata mare di Rapallo 6 gradi punto 3 a Chiavari sul porto 8 gradi ma nell'entroterra di San Pier di Canne 5 gradi e 8 e poi ancora 5 gradi sul porto di Lavagna e 8 gradi e 6 sulla spiaggia di Moneglia quindi qua valgono anche moltissimo quello che abbiamo sempre detto sui microclima dei vari punti dove poi le temperature vengono registrate poi andiamo alla Spezia in centro 6 gradi e 8 a Genova a Nervi 9 gradi e 2 temperatura molto alta come minima ma anche nel centro non si scherza perché pensate che appunto nella zona di San Fruttoso sono stati 6 gradi punto 1 nei giorni scorsi avevamo visto pochi gradi sopra lo zero anche a Genova 9 gradi addirittura la minima di Savona molto alta 7 gradi e mezzo ad Imperia Nord e 7 gradi e 7 a San Remo sono temperature che diciamo molto alta in realtà non è proprio così perché sono temperature abbastanza normali per aprile sono alte rispetto alle temperature molto basse che abbiamo visto fino a ieri e che abbiamo visto soprattutto nel fine settimana quindi c'è stata questa ondata di freddo che ha un po' sconvolto anche la nostra percezione del periodo però in realtà queste sono temperature in linea in realtà sono più i 9 gradi in linea con il periodo che non i 4 e i 3 gradi che abbiamo visto in alcune località ma andiamo alle prime pagine dei quotidiani siamo adesso su avvenire ONU sempre più impotente ieri c'è stato un vero e proprio attacco da parte del presidente Zelensky all'autorità dell'ONU perché insomma è bloccata dai veti incrociati Zelensky al Consiglio di Sicurezza così la Russia ha diritto di uccidere dov'è la garanzia della pace? Mosca però continua a dire che le accuse soprattutto di Buccia sono false invece da altre parti si dice confermate le stragi di Buccia però si richiede da tutte le parti una valutazione super partes è che essere super partes in questo momento non credo sarà molto possibile perché più o meno tutti si sono schierati o a favore o contro la Russia ma diciamo che ormai gli schieramenti si vedono Kiev denuncia bombardamenti sugli ospedali di Mikolaiv e poi usate ancora le bombe a grappolo che ricordiamo sono assolutamente vietati nei conflitti diciamo con armi convenzionali ma nessuno parla più di pace in questa parte del mondo di pace sta parlando solo il Papa perché ormai si è dimenticati e ci si è anche dimenticati che erano in corso delle trattative di pace insomma qualcosa questa settimana è cambiata in peggio possiamo dire nel conflitto un conflitto che si allarga poi se non siamo molto attenti editoriale chi si ricorda ormai di Erbil quegli altri profughi senza attenzione la guerra in Ucraina ha sprigionato una capacità di accoglienza però un'accoglienza un po' a due velocità perché in Kurdistan a Erbil ci sono tanti profughi ma che non vengono accolti con la stessa generosità con cui sono stati accolti i profughi ucraini e poi ancora la Caritas, le Acli, Batturi e i giovani tutti immobilitati per portare aiuti Donbass e Sottotiro, Ungra completano l'attacco del 2014 ma noi resistiamo la guerra dei mondi è l'atroce arma della rieducazione di chi non si allinea l'ideologia che naturalmente in questi casi quando c'è una guerra si fa ancora più radicale sanzioni europee sul carbone ai porti, Putin vuole bloccare l'export di cibo restano solo come ipotesi le misure su gas e petrolio l'inchiesta e il piano nazionale di ripresa e resilienza da 191 miliardi saranno spesi così e poi nuovi aiuti in vista più deficit nel DEF che è il documento economico finanziario partiti ormai in pressing sul governo e poi cooperazioni con Cassa Depositi Prestiti per gli obiettivi del 2030 l'economia civile è il supplemento di oggi del quotidiano avvenire Passiamo adesso invece a un altro giornale, questa volta Ligure il secolo XIX, una Norimberga per Putin, la chiede chiaramente Zelensky l'Italia espelle 30 diplomatici di Mosca e critica da parte della Lega le nuove sanzioni dell'Unione Europea colpiscono carbone, navi e tir russi von der Leyen e Borrell a Kiev venerdì e poi ancora costerà 7,3 miliardi al commercio italiano l'alt ai cargo russi quindi le sanzioni che ora si stanno facendo contro Mosca qualche osservatore economico dice che si riporcotteranno in maniera peggiore sull'Italia che non sulla Russia stessa che evidentemente ha delle risorse tali che può anche andare avanti qualche anno senza l'import di alcuni materiali, di alcune cose che porta invece l'Italia quindi l'Italia si bloccano gli export verso la Russia ed è un danno forse dal punto di vista economico superiore a quello che si cagiona al tra virgolette nemico e queste sono anche un po' le contraddizioni in termini della globalizzazione perché quando si vuole fare male a qualcuno poi lo si fa soprattutto a se stessi le maschere insidiano il mare, rischio emergenza planetaria anche qua qualcosa che ci deve proteggere dal Covid eccetera eccetera ma che in realtà è una minaccia per l'ambiente bagni marini pronti ad aprire, piccoli aumenti sui prezzi nel Tiguglio va bene insomma l'estate alle porte questo è chiaro ma quest'anno dopo due anni di pandemia e si sperava che si potesse uscire più tranquillamente si potessero programmare le vacanze in maniera più serena in realtà la guerra sta condizionando non poco anche l'andamento del mercato turistico e quello è chiaro perché soprattutto gli spostamenti internazionali sono visti con maggiore diffidenza e quindi in queste ore si aspetta, si tende di capire che cosa succederà nel conflitto ucraino perché se ci fosse mai un allargamento del conflitto è chiaro che in quel momento lì anche il turismo si bloccherebbe totalmente allora andiamo adesso però ad iniziare parlando del nostro territorio da una pagina nazionale del quotidiano Avvenire perché oggi il quotidiano Avvenire parla di Passo Orale Giovanile sappiamo che il 18 e 19 di aprile ci sarà un importante raduno a Roma di tutti gli adolescenti, di tutti i ragazzi italiani che appunto saranno dal Papa e saranno anche tra loro si conosceranno anche tra loro due giorni importanti, quelli di lunedì dell'Angelo e il giorno successivo e a cui si stanno preparando in tanti nelle varie diocesi italiane per esempio nella diocesi di Napoli nel quartiere di Scampia da Scampia a Roma si riparte dal Papa la storia appunto a migliaia da tutta Italia in piazza San Pietro, pomeriggio festa e poi veglia con il Pontefici appunto 18 di aprile è il lunedì dell'Angelo e sarà veramente una data particolare bella per i ragazzi che parteciperanno San Pelino, 2000 abitanti l'iscrizione di massa in Trenta Roma dalla piccola comunità in diocesi di Avezzano e poi anche dalla Liguria Liguria regione anziana la carica dei giovani dalla Val Graveglia e vediamo appunto questo articolo di Don Luca Sardella che ci parla della piccola, grande comunità dei ragazzi della Val Graveglia che vediamo in questa foto vivono in piccole realtà di campagna minacciate dallo spopolamento e sono la ricchezza della loro vallata pronti a fare nuove amicizie anche i ragazzi della Val Graveglia raccontano la loro gioia e anche la loro impazienza al partecipare a questo raduno dei giovani in Italia a Roma dal Papa lunedì 18 partiranno già nella notte per arrivare nelle prime luci dell'alba e così visitare i luoghi più importanti della capitale e rimarranno lì anche il giorno successivo per ascoltare la testimonianza di alcuni giovani della comunità di Nuovi Orizzonti e quindi chiaramente non solo dalla Val Graveglia ma da tante altre piccole e grandi comunità della nostra diocesi partiranno tanti ragazzi alla volta di Roma e allora abbiamo fatto un'intervista al responsabile della pastorale giovanile dell'ufficio scuola della diocesi di Chiaveri proprio per capire come si sta organizzando questa trasferta numeri importanti Don Alberto ormai ci siamo sì ci stiamo proprio preparando in tutti i gruppi che hanno aderito a questa possibilità dell'incontro degli adolescenti con Papa Francesco il giorno dopo Pasqua il martedì c'è stata una risposta bella da parte di tante parrocchie della nostra diocesi quindi è un'occasione per stare insieme e per poter intrecciare davvero dei bei legami e per accompagnare questi ragazzi a crescere diamo i numeri importanti per una volta diamo i numeri è una cosa bella effettivamente saranno il gruppo della diocesi è composto da quasi 330 persone in gran parte appunto sono adolescenti ma c'è anche un bel gruppo di educatori e sacerdoti che li accompagnerà e questo mi sembra anche un altro aspetto importante ecco adolescenti, giovani ed educatori insieme in cammino quali saranno le tappe significative di questo pellegrinaggio innanzitutto l'incontro con Papa Francesco lunedì pomeriggio con gli altri adolescenti italiani si pregherà insieme ci sarà un confronto tra il Papa e i ragazzi e poi si potrà anche avere un momento di ascolto e di dialogo infine poi insieme ai ragazzi della nostra diocesi visiteremo qualche posto bello di Roma e vivremo dei momenti di preghiera e di testimonianza martedì pomeriggio ritorneremo a Chiavari sicuramente ricchi di entusiasmo se ci fosse ancora qualcuno indeciso all'ultimo minuto ci si può ancora scrivere e vediamo se qualcuno ci chiama iscrizioni in last minute cercheremo di far partecipare tutti cambiamo argomento e veniamo ancora nel nostro territorio ma questa volta si parla di cronaca sindacale c'è uno stabilimento appunto industriale di Chiavari che sta lottando da alcuni mesi per evitare ben 22 esuberi che sono tanti per appunto la totalità dei lavoratori impiegati in questa azienda che sono 236 stiamo parlando dell'Ailex di San Pier di Canne che quest'oggi sarà a Genova per protestare ci sarà uno shop appunto nella fabbrica chiavarese e tutti i lavoratori saranno presenti a Genova appunto chiamati dai sindacati per protestare diciamo no ai 22 licenziamenti dichiarati dall'azienda a fine gennaio appunto su 236 che sono i totali dei lavoratori impiegati è una vicenda che va avanti da molti mesi siamo al quarto mese del 2022 che sta andando avanti da inizio anno e quindi appunto c'è un braccio di ferro proprio tra i lavoratori e quindi i sindacati e l'azienda e l'azienda e nei mesi scorsi c'è stata anche una manifestazione chiavarese in cui appunto i rappresentanti sindacali sono stati ricevuti dalle autorità civili anche dall'autorità religiosa dal Vescovo Monsignore Giampio Luigi De Vasini che appunto ha dato comunque un incoraggiamento ai lavoratori trattativa sindacale in stallo mentre si avvicina alla scadenza del 16 di aprile a rischio il posto di 18 operaie e 4 impiegati considerati come esuberi cambiando argomento invece sabato la società economica di Chiavari andrà al voto per eleggere il nuovo direttivo e la storia che arriva da San Colombano Certenoli Pozza del Lupo addio arriva al nuovo cartello Passo di Romaggi quindi Passo Pozza del Lupo sarà soltanto un ricordo del passato l'attuale cartello è appunto tra le valli Fontana Buona e Cichero e verrà invece sostituito da un cartello che parlerà di Passo di Romaggi quindi Pozza del Lupo non figurerà più andiamo ancora avanti il risico delle ville fa arrabbiare Armando Ezio Capurro a Rapallo un punto di forza lasciato in abbandono l'ex sindaco ricorda il concorso di idee per valorizzare gli edifici e il sindaco Bagnasco risponde se non ha avuto seguito un motivo ci sarà le ville sono Villa Riva Villa Porticiolo Villa Tiguglio poi vabbè si parla anche di auditorio delle clarisse e del castello chiuso anch'esso da un po' di tempo perché sapete c'è stata una vicenda legata a un incidente avvenuto alcuni anni fa quindi l'ex sindaco di Rapallo va un po' all'attacco polemico su queste situazioni che sono ancora in sospeso e poi ancora a Piazza Ambulatoriale a Santa Margherita Ligure la novità i servizi diventano attivi questa è la volta buona per riavviare la piastra ambulatoriale che trova questa nuova sede che è stata diciamo così sperimentata e un po' rodata durante il periodo delle vaccinazioni cioè gli spazi che sono stati ricavati sopra il supermercato Coop di via Gibilarco e via del Pino Teramo appunto è stata inaugurata ad agosto ma i servizi al momento non erano attivi adesso finalmente può prendere via a quello che si chiama Punto Salute Santa Margherita aperto tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle 18.30 nei 5 ambulatori saranno allestiti i punti di prelievo un ambulatorio infermieristico ed ancora un ambulatorio per le vaccinazioni di tutti i tipi le altre attività prenderanno posto via via nelle prossime settimane ci sarà anche un ambulatorio specialistico chirurgico multidisciplinare ed un ambulatorio specialistico oculistico con vari orari naturalmente ed altri servizi che come dicevamo verranno poi inseriti nel corso dei prossimi mesi il capitano Notar Nicola da oggi è in congedo dopo 42 anni di servizio nell'arma il capitano appunto era in servizio a Santa Margherita Ligure dopo 42 anni oggi è collogato in congedo per aver raggiunto i limiti di età era comandante del nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure e qua infatti lo vediamo insieme al sindaco di Santa Margherita Paolo Donadoni e poi ancora Pagano lascia Portofino Sanna nuovo reggente dell'ufficio marittimo oggi debuta nel borgo la stagione croceristica e c'è questo cambio della guardia per quanto riguarda la piccola capitaneria di Porto appunto di Portofino e quindi oggi arriva il nuovo responsabile reggente che appunto sarà Alessandro Sanna che in questo caso sostituisce Vincenzo Pagano bene andiamo avanti con altre notizie sempre dal secolo XIX di oggi a tu per tu con il regista Piccioni studenti per tre giorni a confronto a Santa Margherita Ligure questo è il secondo appuntamento del progetto Casa del Pensiero con l'incontro con Affinati arriva quindi questo secondo appuntamento dopo lo scrittore Affinati la volta del regista cinematografico Giuseppe Piccioni vincitore di Cinque David di Donatello e appunto anche insieme a lui ci sarà l'attore Pino Petruzzelli e gli studenti che potranno confrontarsi con loro e appunto in particolare con il regista per parlare di cinema e di arte cinematografica appunto mentre invece a Piana Crixia Miele dei Parchi Liguri tutti premiati per Aveto e Portofino alla finale di questo concorso che ha visto premiare i migliori produttori di miele del territorio e poi ancora notizie in breve Chiavari sentenza sul porto condanna al comune altra causa giudiziaria persa dal comune e questa volta si tratta di un'avvertenza intentata da Lagi Chiavari relativa ad un'istanza di accesso agli atti e poi ancora da Chiavari soccorso sanitario in corso Buenos Aires un uomo ha minacciato di farsi del male ed è stato sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio a Recco chimica in cucina Carlini è ospite da ristorante O Vittorio per parlare proprio di questo di questa branca della gastronomia che utilizza molto la chimica nelle preparazioni dei cibi e poi la notizia dei riti pasquali riti della settimana santa che stanno per prendere avvio perché tra qualche giorno sarà la domenica delle palme e con la domenica delle palme sappiamo che prendono avvio i riti della settimana santa e quest'anno saranno riti nuovamente diciamo completi come non ci sono stati negli ultimi due anni il vescovo tra i detenuti per la lavanda dei piedi Monsignor De Vasini sarà in carcere giovedì santo in ospedale a lavagna Pasqua la direttrice Penco andare tra gli ultimi è un gesto umano prima ancora che cristiano e quindi si rinnova come già negli ultimi anni appunto della guida di Monsignor Tanasini e questo rito della lavanda dei piedi all'interno del carcere di Chiavari poi ci saranno tutti gli altri riti naturalmente che Telepaccio seguirà in diretta dalla cattedrale di Chiavari compresa poi la grande veglia di Pasqua ma il vescovo De Vasini qualche giorno fa si è recato anche per la prima volta in una casa di riposo perché chiaramente lui è arrivato nel pieno della pandemia e in questi ultimi mesi le case di riposo erano off limits per le visite e anche per iniziative particolari come le celebrazioni adesso si è riniziato invece a dare il via agli ingressi e con questi anche alle celebrazioni all'interno delle case di riposo e delle RSA allora andiamo a vedere insieme il servizio realizzato dalla nostra redazione un gesto una carezza uno sguardo che è cura nella visita di Monsignor Giampio De Vasini la prima dall'inizio del suo episcopato alla residenza protetta alle due palme di Sestri Levante c'è stato soprattutto questo e una riflessione proposta nella messa celebrata all'interno della struttura che ha suggerito agli anziani ospiti di non abbandonarsi alla malinconia di queste giornate festive lontani dagli affetti e con i pensieri che si intrecciano fra loro per lasciare invece che la luce inondi la vita in questa fase così faticosa della vostra vita che possiamo paragonare a una notte se c'è Gesù questa notte non vi schiaccerà la preghiera innanzitutto che per gli anziani si concretizza ogni giorno nella recita comunitaria del rosario nella partecipazione alla celebrazione della messa ma anche nella carità reciproca quando si sta insieme le occasioni di frizione diciamo così sono frequenti tra di voi col personale e allora vivere queste occasioni appunto come opportunità di praticare la carità il suggerimento del vescovo è per tutti e il desiderio che la notte sia resa splendente dalla luce accomuna tutti gli esseri umani soprattutto in un tempo in cui la fine della pandemia suggellata dalla decadenza delle norme di contenimento del contagio va però di pari passo con una prudenza tanto necessaria quanto urgente noi abbiamo riaperto diciamo le visite seppur contingentate subito dopo dall'inizio di febbraio e devo dire che anche i parenti stessi hanno compreso le difficoltà che ci sono state fino ad oggi però per noi è fondamentale riprendere e ricostituire un po' tutta la parte diciamo di umanità che si è persa in questi mesi abbiamo pagato un prezzo alto in termini di umanità che abbiamo dovuto cedere di relazioni di vicinanza abbiamo anche pagato un prezzo purtroppo anche in termini di volti che purtroppo non ci sono più con noi abbiamo ripreso già da tempo tutte le attività di animazione e anche di coinvolgimento degli ospiti stessi vivono ogni momento come un qualcosa di nuovo ogni momento che vi è ogni appuntamento come quello che viviamo in questa giornata come un dono e un qualcosa di atteso e di coinvolgente per loro allora torniamo a parlare di Pasqua ma questa volta non dei riti religiosi ma delle vacanze pasquali di quello che inizia da Pasqua in poi cioè la stagione turistica perché poi ci sarà la settimana di Pasqua la settimana successiva il 25 aprile il primo maggio beh non è diciamo festa perché è domenica però insomma in questo periodo ci si muove molto e si intrecciano anche tante relazioni anche diciamo dei gemellaggi che si rinnovano come quello tra Recco e Ponte di Legno andiamo a leggere insieme dal secolo XIX di oggi Recco e Ponte di Legno unite nel segno delle feste pasquali sindaco assessora alle tradizioni all'uni della primaria nella delegazione dopo due anni di stop a causa del covid si rinsalda il legame che è nato nel lontano 1956 quindi qualcuno ci ha visto qualcosa dal punto di vista politico perché Ponte di Legno è legato molto a Bossi alla Lega eccetera però in realtà dove andava lui a fare le vacanze ma in realtà non è così perché il legame è dal 1956 domani partenza della delegazione recchese con i rappresentanti del comitato gemellaggio gli alluni delle scuole venerdì laboratorio sabato visita al centro storico e domenica benedizione delle palme e processione con la messa perché appunto Recco e Ponte di Legno sono unite soprattutto dalla tradizione della benedizione delle palme che quest'anno sarà fatta con tutti i crismi come si dice con tutte le caratteristiche solite degli anni normali quindi con le piccole processioni che si possono di nuovo fare poi parliamo anche di un lutto che ha colpito Portofino addio a dottor Sergio Noce 86 anni un medico e patron di un ristorante importante come il Pitosforo di Portofino Rosario domani alle 10.30 nella chiesa di San Francesco a Rapallo dove poi alle 11 si celebrerà il funerale ma il dottor Noce sarà sepolto a Portofino dove riposa anche la moglie Laura della famiglia Vinelli che da sempre sono gestori di ristoranti nel Golfo nel Borgo e poi andiamo invece a parlare di elezioni amministrative il 12 di giugno ci saranno le comunali anche a Chiavari Chiavari verso le elezioni Garibaldi con Corticelli chiaramente Garibaldi è un nome è un cognome che è molto comune nel nostro territorio tra l'altro tra i politici perché abbiamo politici di tutti gli schieramenti che si chiamano Garibaldi in maggioranza e minoranza all'opposizione dentro e fuori in consiglio regionale ce ne sono due che arrivano dal territorio uno è Sandro Garibaldi della Lega l'altro è Luca Garibaldi del Partito Democratico e poi nel consiglio comunale c'è anche Silvia Garibaldi che era nel gruppo con Levaggi nella precedente consultazione adesso correrà da sola non appoggerà il candidato del centro-destra Giovanni Giardini ma formerà un'alleanza con Corticelli a sua volta in uscita invece dalla maggioranza quindi Garibaldi con Corticelli alleati per una formazione libera e democratica sono già apparsi in città i manifesti di Silvia Garibaldi appunto che la ritrae e appunto lo slogan è libera democratica chiavarese quindi si intravede una diciamo così una nuova formazione una nuova lista evidentemente civica che porterà chissà ad una candidatura a sindaco o un appoggio esterno a qualcun altro insomma lo vedremo nei prossimi tempi ma nei prossimi settimane nei prossimi giorni poi messa in sicurezza di punta chiappa via l'intervento per ridurre il rischio nel settembre scorso da un terreno privato si era staccato un blocco di roccia precipitato sulla pedonale l'importo dei lavori è di 100.000 euro ancora dal secolo XIX di oggi si parla di accoglienza dei profughi e i volontari della croce bianca di Rapallo saranno al centro profughi di Ugovizza in provincia di Udino Ugovizza è città di frontiera da sempre frontiera con con i paesi diciamo sloveni eccetera ma in questo caso è la porta d'ingresso dei profughi ucraini in Italia e quindi lì spesso si fermano i profughi vengono lasciati in un campo e in un campo che però ha delle problematiche ha bisogno assolutamente di interventi anche da parte di gruppi esterni dal Friuli e quindi arrivano anche da Rapallo nel punto accoglienza allestito per chi fugge dal conflitto sono arrivati appunto arrivata una squadra rapallese per dare manforte per dare la loro collaborazione alle autorità friulane accoglienza rifugiati raccolta per l'Ucraina contenono le iniziative la solidarietà prosegue in tutto il nostro territorio con tanti punti di raccolta sia di beni per prime necessità offerte e naturalmente anche raccolte di disponibilità per ospitalità di profughi volontari prociv arci in missione al confine con tonnellate di aiuti Valpetronio Sangaletti Claudio Sangaletti l'ambasciatore di pace e poi vediamo appunto anche una coppia di profughi fuggiti da Odessa e poi il ricordo di una giovanissima ucraina che era a Chiavari insieme a tanti altri bimbi appunto per passare le vacanze qua nel nostro territorio un'iniziativa che da sempre da dopo la tragedia di Chieve e ancora fino all'anno scorso è stata presa da alcune associazioni del territorio ebbene Bogdana ha chiamato i suoi diciamo così amici chiavaresi dal bunker di Kiev vent'anni fa ero da voi a Chiavari adesso fa il medico fu ospitata dalla famiglia Bedini ora è medico e ha contattato papà Angelo ciao sono viva ha inviato una foto di allora che li ritrae d'estate in Val d'Aosta vacanza stupenda quindi ancora ricordi bellissimi nonostante ormai sia mamma si è sposata un figlio e ora lavora in ospedale voglio restare qui aiutando la mia gente e ancora visto che l'abbiamo citato prima era dalla prima pagina del secolo parliamo appunto della stagione balneare alle porte e infatti i balneari si stanno attrezzando in questi giorni per allestire i loro stabilimenti bagni marini pronti ad aprire piccoli ritocchi sulle tariffe materie prime soggette rincari dal 7 al 30% distanziamento c'è e chilometrerà come per il covid e poi c'è la nuova passeggiata libera Rapallo via i lavori nella zona dei Cavallini e quindi questa spiaggia libera torna ad essere una spiaggia che può accogliere i turisti il sindaco non nota dolente la città la mancanza di arinile aperti al pubblico andiamo a vedere adesso l'agenda siamo molto in ritardo ma vediamo gli appuntamenti di oggi gli appuntamenti di mercoledì 6 aprile e aperto alle visi del museo di Cesano di Chiavari le sale si possono visitare dalle 10 alle 12 in piazza Nostra Signora dell'Orto 5 sono esposti dipinti argenti tessuti superlettili e paramenti liturgici dall'ottavo al ventesimo secolo proseguono gli incontri inseriti nel calendario dei corsi di cultura di Chiavari nella sala livellare di Via del Pino il prof Balsamo terrà una lezione di psicologia su la psicanalisi appuntamento alle 16 proseguono gli spettacoli del teatro pubblico Ligure alle 16 alla fondazione Ansaldo di Genova la fabbrica della memoria di Lorenzo Fiori infine presentazione del libro di poesie L'ira notturna di Penelope di Antonella Silca giudicato miglior silloge al ventesimo premio discritto da femminile il paese delle donne alle 18 in salita Santa Caterina 48 a Genova Nuvolosità in aumento da oggi sulla Liguria per l'arrivo di una perturbazione che in realtà colpirà soltanto il centro Italia ma che porterà un flusso che inizierà proprio ad interessare la nostra zona dal pomeriggio quindi nuvole basse sulla costa e invece sugli introterra soltanto delle velature con venti moderati da nord-est lungo la costa in Periese al mattino rotazione da sud durante la giornata mare poco mosso mosso nel pomeriggio per onda da sud ovest temperature stazionari e le massime oggi saranno comprese sulla costa tra 14 e 16 gradi domani tempo nuvoloso un po' su tutta la Liguria ma in particolare sul centro e Levante non si possono escludere anche delle gocce di piogge ma saranno proprio degli sgoccioli mentre invece sull'Imperiese continueranno condizioni di tempo più soleggiato con velature attenzione ai venti perché domani saranno di libeccio a largo rotazione ciclonica sotto costa quindi sentiremo non solo il vento ma vedremo anche il mare che sarà agitato per onda da sud ovest con condizioni meteomarine proibitive quindi forse andiamo in fronte a un'altra allerta mareggiata e poi temperature in aumento nelle minime della notte stazionare invece le massime della giornata di domani grazie a Manuel Botto che ha curato la parte tecnica e regia a tutti voi che ci avete seguito l'informazione torna alle 12.45 noi ci vediamo domani alle 7.30 da parte di Marco Revello l'augurio di un'ottima giornata a tutti che c'è un'ottima giornata